17 novembre, rieccoci di nuovo insieme, so che siete curiosi di sapere che cosa il cielo vi vuole consigliare per affrontare al meglio la giornata di oggi. Ariete, non sarete particolarmente disponibili nei rapporti con gli altri. Toro, una punta di amarezza, disturberà la vostra giornata. Gemelli, non prendete troppi impegni, c'è un rischio di accavallamenti. Cancro, giornata simpaticamente attiva e dinamica. Leone, trascinerete con l'entusiasmo anche le persone più restie. Vergine, azzeccherete una mossa giusta grazie al vostro intuito. Bilancia, una sottile tensione nervosa potrà disturbarvi e Scorpione, terminerete un progetto a cui avete lavorato da tempo. Sagittario, prendete un momento di relax, non preoccupatevi troppo. Capricorno, sarete estremamente più intuitivi e più ricettivi. L'acquario deve controllare maggiormente i dettagli organizzativi mentre, amici dei pesci, il tono vitale sarà alle stelle durante tutta la giornata. E anche per oggi è tutto. Oroscopo del 17 di novembre, fatto. Il prossimo è per domani.